Maurizio, ti ho fatto una domanda, 33-34 anni, cambi auto, prendi un usato, per cortesia rispondi a questo, è più importante. Allora lui dice, no, non prendo l'auto usata e vi dicendo, pensa bene che cosa succede se c'è qualcuno che cambia l'auto, sì o no. Aspetta che mo' si ricorda. Avevo o non avevo ragione? Allora, Maurizio Baroni, 3103-1978, abbiate pazienza un attimo. Carissimo Maurizio, intanto tu hai capacità dirigenziali. Attenzione, non vuol dire io ho la capacità di coordinare 100 uomini, 3 uomini, 20 uomini, non è questo. È fatemi lavorare a modo mio, nessuno superi il confine del mio spazio sacro che io vi porto il risultato. Ma devo essere lasciato in autonomia. Nel momento in cui non ti lasciano lavorare in autonomia, tu potresti anche scalciare, perché tu vuoi sempre l'evoluzione. Poi, va detta una cosa, che hai un forte conflitto di abbandono che ti porti dalla nascita, ma è ereditato come conflitto. Ti porti questo conflitto di abbandono, dicevo, a parte che è sparso a destra e a sinistra, a dirti la verità, però c'è una persona che non so se è un fratello di tua mamma ed eventualmente di maggiore età o sorella. Non so se tua mamma abbia fratelli o sorelle. E questa persona ha vissuto un conflitto di abbandono talmente tanto forte che ti dicevo, o la persona è morta o ha vissuto broncopolmoniti o cose del genere. Voglio sapere se tua mamma ha fratelli o sorelle. 1967, 1967, accade. Allora, 1967, tu non eri ancora nato. Accade un fatto pesato, una persona distesa. Un fatto pesante. Allora, qui ho scritto quanti sono i figli della nonna di lui, nonna materna. Ho detto quattro. Adesso facciamo due calcoli, due fratelli, una sorella più la mamma, per dirvi che si può anche individuare il numero di soggetti che vi stanno in una famiglia. Allora, ascoltami, ti stavo dicendo, tuo padre nel 1967 vive uno shock forte, un evento pesante. Non so se c'è addirittura qualcosa di violento in tutto questo. C'è nel senso qualcosa di un incidente sul lavoro, qualcosa che tu te lo sei portato come programma. Cerca di verificarlo. Però se riesci a verificarlo già adesso, sarebbe una cosa forte, importante. Allora, hai un talento particolare che non riesco ad individuare. Hai anche una sessualità che, non sto dicendo che sei bisessuale, ma hai una sessualità aperta. Nel senso che, come gli angeli, gli angeli non hanno sesso. Tu hai un sesso che potrebbe essere completo, poi dipende un po' come ti poni di fronte a tutto questo. Purtroppo il mio papà se ne è andato un anno fa, nel 1967, non so, ha avuto una vita dura da giovane. Però, ascoltami, tu cerca di indagare perché scoprirai che quell'evento ti sta condizionando. Dimmi una cosa, caro Maurizio, tu sei stato steccato nella tua vita. Ti hanno messo un busto, oppure ti hanno messo del gesso da qualche parte. È successo un evento del genere. 33-34 anni, per caso cambi auto e prendi un usato. Dimmi per cortesia, mi serve per sapere una cosa. 33-34 anni, se cambi auto e compri un usato. Ti dico io che anno era, 1978 più 33. Era tra 2011 e 2012. Poche parole vedeva. Lascia stare quello che vedeva tuo papà da questo punto di vista. Porta pazienza, Maurizio. Ti ho fatto una domanda. 33-34 anni. Cambi auto e prendi un usato. Per cortesia, rispondi a questo, è più importante. Ok, allora. Sì, Gesso, ok. Quindi, perché ti spiego, hai ancora il gesso che ti ha scioccato a livello fisico. È ancora come se tu avessi una struttura condizionata da quel gesso che ti ha come bloccato, ha come manifestato un blocco. Non lo vedo tanto nella data di nascita, sinceramente. Gamba destra, ok, va bene. Però io ti ho chiesto, 33-34 anni, se hai cambiato auto e hai preso un usato. Corriva l'anno 2011-2012. Allora lui dice, no, non prendo l'auto usata. E vi dicendo, pensa bene che cosa succede, 33-34 anni. Se c'è qualcuno che cambia l'auto, ok, io te l'ho detto proprio specifico. Sì o no. Perché c'è una preoccupazione per un investimento, nessun cambio d'auto. Guarda, lo pubblico senza problemi. Perché c'è un investimento, un movimento di soldi, qualcosa. O al contrario, una perdita, una svalutazione. Ti ho detto, lascia stare dell'auto. Ti ho detto, se c'è stata una perdita, soldi, un investimento dove hai perso soldi. Te l'ho detto più volte, perché ti ho chiesto dell'auto per scartare. Perché c'è una condizione numerologica che ti potrebbe dire sì è quello. Aspetta che mo' se ricorda. Dai, avanti. Tira fuori. Dai, fammi fare bella figura. Perché adesso viene in mente, no? Prima mi farò fare la brutta figura, poi mi viene in mente. Dilla.